Che cosa governa il mondo animale? La mente istintiva, che è l'aspetto della mente universale che precede la mente intellettiva. La mente intellettiva è infatti l'aspetto della mente universale che governa la condizione umana e cioè l'io. Allora qual è la differenza tra il mondo animale e il mondo umano? Il mondo animale non sa di evolvere mentre il mondo umano inizia a saperlo. Ma perché? Perché il mondo umano ha raggiunto l'autocoscienza. Grazie.